Cosa ci viene in mente quando pensiamo ad Alfred Hitchcock? Ad alcuni verranno in mente i celebri cameo di Sir Alfred all'interno dei suoi film, che con l'umorismo che lo caratterizzava amava ritagliarsi una comparsata, a volte bene in vista, a volte davvero nascosta, dando vita a un gioco che attraversa gran parte della sua filmografia. I più cinefili penseranno subito alla straordinaria tecnica cinematografica presente nei suoi film, da opere realizzate completamente in pienosequenza o in soggettiva, al ritmo del montaggio, senza dimenticare la scelta delle inquadrature curate al millimetro o la sua splendida fotografia. Ma se c'è un elemento a cui tutti pensiamo è quello della tensione, a volte della paura, dei gialli, dei thriller, degli assassini misteriosi e dei colpi di scena. Alfred Hitchcock ci ha lasciato in eredità una filmografia di straordinarie pellicole immortali, che non smettono di appassionare anche a distanza di 90 anni. Pochi cineasti sono riusciti a dare un contributo così fondamentale alla storia del cinema, ed è per questo che a 40 anni dalla morte del regista abbiamo deciso di celebrare la sua grande figura selezionando per voi quelli che riteniamo i migliori 10 film di Alfred Hitchcock. Ma prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, per non perdervi nessun video targato Movie Player. Remake americano dell'omonimo film inglese, girato dallo stesso Hitchcock circa 20 anni prima, L'uomo che sapeva troppo, con James Stewart e Doris Day, è un piccolo classico del cinema di spionaggio. Confrontare i due film mette in luce la padronanza del mezzo che il regista inglese ha acquisito con gli anni. Un po' più lungo dell'originale, molto simile nella struttura e negli eventi, ma con una gestione del ritmo e della tensione da manuale. Il film racconta le disavventure di due coniugi, alle prese con il tentativo di evitare l'assassinio di un uomo di stato. Indimenticabile, la sequenza ambientata al Royal Albert Hall, un vero e proprio capolavoro di suspense. Cary Grant, James Stewart e Grace Kelly sono loro, i protagonisti di Caccia al Ladro, un divertente inseguimento tra gatto e topo. Ritiratosi da tempo, John Robbie, chiamato il gatto, è costretto ad abbandonare la sua vita tranquilla sulle colline della Costa Azzurra, per scoprire l'identità di un ladro che usa i suoi stessi metodi. La scena memorabile? Tutta la sequenza alla festa in maschera, dove Hitchcock gioca col doppio e con le identità. Compiere un omicidio solo per il gusto di farlo. E' questa l'idea che sta alla base di Nodo alla gola, film girato interamente in piano sequenza. Certo, sono presenti dei tagli nascosti, ma nessuna bobina poteva catturare più di dieci minuti di girato all'epoca. E' primo film a colori del regista. Poco prima di un ricevimento, due amici conviventi, forse amanti, strangolano un loro amico e lo nascondono in un baule dove verrà imbandita la tavola del party. Sino a quando un professore, James Stewart, inizierà a sospettare dei due ragazzi. Vero e proprio manuale di regia, il bellissimo Nodo alla gola non fu un grosso successo all'epoca, salvo poi essere rivalutato come una delle migliori opere di Hitchcock. Forse l'ultimo grande film del regista, Gli uccelli, va detto, non ha dalla sua un ritmo indiavolato, elemento che può mettere a dura prova lo spettatore contemporaneo, soprattutto nella prima parte del film. Però, quando ingrana, diventa un vero e proprio film del terrore, dove i protagonisti sono totalmente impotenti di fronte alla minaccia della natura, tanto che sembra anticipare la nuova corrente del cinema horror che nascerà, anni dopo, a fine decennio, con George Romero e i suoi zombie. Sperimentale persino nella colonna sonora, composta unicamente dallo sbattere delle ali e dai rumori inquietanti degli uccelli. Spionaggio e romanticismo sono l'ingrediente di Notorious, l'amante perduta, con protagonisti Cary Grant, un agente segreto, e la mai così splendida Ingrid Bergman, che deve smascherare un complotto filo-nazista. Sarà costretta a sposarsi col capo di questo complotto, una sua vecchia fiamma, nonostante nel frattempo si sia innamorata dell'agente segreto con cui lavora. Il film unisce la storia di spionaggio con il menaggio amoroso, risultando una via di mezzo tra il thriller e la commedia romantica. E a proposito di romanticismo, la famosa scena romantica inizio film entrò nel Guinness dei primati come bacio più lungo della storia del cinema, infatti durava ben tre minuti. Roger Tornil, ancora Cary Grant, viene scambiato da due uomini per George Kaplan, rapito e torturato. Inizia così Intrigo internazionale, uno dei migliori e più lunghi film di Alfred Hitchcock, nonché vero e proprio punto di arrivo del suo filone di film di spionaggio. Due le sequenze veramente indimenticabili, la lunga scena in campagna dove Tornil viene attaccato da un aeroplano, sequenza di quasi dieci minuti completamente muti, che rompe gli stilemi del cinema di suspense. Inserendo la minaccia in campo aperto e ben illuminata, e la sequenza finale, con l'inseguimento sul monte Rushmore tra i volti dei presidenti d'America, che si conclude con un'immagine impertinente, che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Vincitore dell'Oscar per il miglior film, Rebecca, la prima moglie, è di fatto una storia d'amore gotica con i fantasmi. Inizia con una soggettiva ambientata nel mondo dei sogni, da cui parte un lungo flashback, che racconta, inizialmente come una fiaba, e poi, incubendosi sempre di più, la storia di una ragazza, alle prese con gli scheletri nell'armadio del suo novello sposo, un ricco signore, che vive in una villa aristocratica, rimasto vedovo. Il fantasma, inteso come ricordo della moglie morta, sembra perseguitare la ragazza, continuamente paragonata alla vecchia compagna del padrone di casa. Non mancheranno, nemmeno in questo caso, colpi di scena che capovolgeranno l'intero film. Sotto la patina del thriller, lo splendido La finestra sul cortile è un vero e proprio manifesto di arte cinematografica, basato sul rapporto che intercorre tra film e spettatore, sulla perversione wireistica del protagonista Jeff, rendendoci di fatto legati a lui, Costretto su una sedia a rotelle, Jeff spie il vicinato con un binocolo e una macchina fotografica. Un urlo di una donna nel cuore della notte lo convince che sia avvenuto un delitto a cui vuole trovare risposte. Tecnicamente, il film è un'opera magistrale. Hitchcock non è mai stato così ispirato e ogni inquadratura è calibrata al millimetro. Elogio dello sguardo e del rapporto tra cinema e vita, Jeff è un vero e proprio regista che sceglie le immagini, i tempi, i ritmi e persino i generi, fino a creare una sua storia di finzione tutta personale. Beh, c'è ben poco di nuovo da raccontare per presentare il mitico Psycho, un classico del cinema reso immortale dalla famosa scena dell'omicidio sotto la doccia. Una scena che tanto turbò gli spettatori dell'epoca. Infatti mai era successo che la protagonista morisse dopo appena 40 minuti di film. Imprevedibile sia nello sviluppo che nel finale, Psycho è un vero e proprio film dell'orrore, dove l'atmosfera malsana, la violenza veramente esplicita e le inquadrature storte comunicano un senso di perturbante e rendono il film perversamente affascinante. Dopo ben 60 anni, l'inquietante Norman Bates di Anthony Perkins non smette di incutere timore. Come negli uccelli, il film successivo di Hitchcock, Psycho sembra presagire il nuovo filone dell'orrore americano degli anni 70, dove il male si introduceva nella normalità quotidiana. Non poteva che essere la donna che visse due volte sul gradino più alto del podio di questa nostra classifica. Nel film con James Stewart e Kim Novak c'è il manifesto più alto dell'opera di Alfred Hitchcock. Ci sono la perversione umana, il gioco dei doppi, gli incubi e le fobie dell'inconscio, l'importanza del voyeurismo, la riflessione tra cinema e vita, ma anche l'ascito dei fantasmi che perseguitano il vivente. Madeline o Judy, una o entrambe, quale quella vera e quale quella fittizia. La realtà si tramuta in sogno, confondendosi senza soluzione di continuità. A partire dal titolo originale, Vertigo, il film è un viaggio nella psiche del protagonista, demiurgo per la creazione di una donna bionda perfetta, che comporterà una caduta vertiginosa nella follia. Ma adesso diteci la vostra, qual è il vostro film preferito di Alfred Hitchcock? E siete d'accordo con la nostra classifica? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Good night.